ci stiamo a dire vi riferirò maniera i bicicletti si riferirò pozzate la mia pozzate la mia vado ma e ora Ora, Purninà, Mettadame, Mestigiana e Deporte Elisabetta. Si preparano dopo con l'inizio di un'anisce e si fermano in aria. Due mani, Tata. Prossimo contro, Marco Della e Danuso Lava. Due mani, due mani, dai, 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 dai. Vicino, contatto. 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 Contatto, contatto. Tieni, tieni, tieni. Tieni, tieni. Contatto, Tata. Contatto, Tata. Vicino. Dietro, dietro, dietro. Alessia, alessia! Contatto, vicino! Alessia, alessia! Ricontro! Tieni, tieni, per dietro! Contatto! Così! Dai, Giada, così! Ancora più vicino, Giada! Giada! Si preparano, ovviamente, Polestini Maradona! Noi, al centro! Vai, Giada! Vai, Giada! Vai, Giada! Contatto, contatto! Contatto! Giada! Così, Giada, dai, così! Sì, giada, dai! Vai, Giada, dai! Vai, Giada, dai! Incontro, incontro, incontro! Vai, vai, vai! Pronto a cambiare? Vincere! 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 Avvanti! Avvanti! Svegliati Giada, dai! Ancora! Ancora Giada, ancora! Andiamo Giada! Svegliati Giada, dai! Svegliati Giada, dai! Vincontro! Vai, vai, vai! Giada, dai! Andiamo! Andiamo! Dai Giada, svegliati! Dai Giada, svegliati, 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 svegliati! Dai Giada, svegliati! Dai Giada, svegliati, svegliati! Dai Giada, svegliati, svegliati! Svegliati!